parte 7 pensando al domani cadranno le teste il gioco della camicia di forza missione suicida la mia gente un vecchio specchio scuro un cristiano in una cadillac schiuma verde 41 mi chiamo alvin mangrim sono lord alvin adesso benvenuti nel mio regno il giovane folle biondo seduto sul suo gabinetto trono mosse una mano sottile vi piace josh era nauseato dalla puzza di morte e decomposizione lui suon e liona sedevano insieme sul pavimento del reparto animali domestici del kmart nella parte posteriore del negozio nelle piccole gabbie intorno a loro c'erano dozzine di canarini e parrocchetti morti e dei pesci morti marcivano nei loro acquari al di là di un'area espositiva con schermi di vetro c'erano alcuni gattini e cagnolini che attiravano le mosche josh desiderava colpire con la faccia ghignante e con la barba bionda ma i suoi polsi e le caviglie erano legati con catene bloccate da lucchetti suon e liona erano legate con corde intorno a loro c'erano il neandertal calvo l'uomo con gli sporgenti occhi da pesce e sei o sette altri l'uomo con la barba nera e il nano nel carrello erano appostati nelle vicinanze e il nano teneva tra le tozze dita il bastone da rabdomante di suon ho riparato l'elettricità disse lord alvin reclinandosi sul trono e mangiando acini d'uva è per questo che le luci sono accese i suoi torbi di occhi verdi si spostarono da josh a suon e di nuovo all'uomo liona stava ancora sanguinando dal taglio alla testa e i suoi occhi sfarfallavano mentre tentava di respingere lo shock ho collegato un paio di generatori portatili al sistema elettrico sono stato sempre bravo con l'elettricità e sono anche un falegname molto bravo gesù era un falegname sapete sputò i semi credi in gesù si riuscì a gracchiare josh anch'io avevo un cane chiamato gesù una volta l'ho crocifisso ma non era suscitato prima di morire mi ha detto cosa fare alla gente nella casa di mattoni e addio alle loro teste josh sedette immobile fissando quegli occhi verdi senza fondo lord alvin sorrise e per un attimo assomigliò a un ragazzo del coro tutto avvolto in viola e pronto per cantare ho sistemato le luci qui per attirare un sacco di carne fresca come voi un sacco di giocattoli vedete ci hanno lasciati tutti al pathway tutte le luci si sono spent e i dottori se ne sono andati a casa ma ne abbiamo trovati alcuni come il dottor baylor e poi ho battezzato i miei discepoli nel sangue del dottor baylor e li ho mandati nel mondo mentre il resto di noi è rimasto qui inclinò la testa da un lato e il suo sorriso scomparve è buio fuori disse è sempre buio anche di giorno come ti chiami amico josh glielo disse riusciva a sentire l'odore del sudore della sua paura più forte di quello degli animali morti josh ripete lord alvin mangiò un acino il potente josue hai fatto cadere con il soffio le antiche mura di gerico vero sorrise di nuovo e fece un gesto verso un giovane con capelli neri ingellati pettinati all'indietro e pittura rossa intorno agli occhi e alla bocca il giovane si fece avanti tenendo in mano un barattolo di qualcosa suon sentì alcuni degli uomini ridacchiare eccitati il suo cuore stava ancora battendo forte ma le lacrime erano sparite adesso e così anche la melassa che le aveva bloccato gli ingranaggi del cervello sapeva che questi pazzi erano scappati da quel posto chiamato pathway e sapeva che davanti a lei c'era la morte seduta su un gabinetto si chiese cosa fosse successo a mulo e da quando si era scontrata con i manichini respinse rapidamente quel ricordo il terrier non si era visto né sentito il giovane con la pittura rossa in faccia si inginocchiò davanti a josh svitò il tappo del barattolo e rivelò del cerone bianco ne raccolse un po con l'indice e lo avvicinò al volto di josh quest'ultimo ritrasse la testa ma il neandertal gli afferrò il cranio e lo tenne fermo mentre gli applicavano il cerone sarai molto carino josh gli disse lord alvin ti piacerà questa cosa tra le ondate di dolore nelle sue gambe e il si rese conto che il giovane stava pitturando il volto di josh perché assomigliasse a un teschio conosco un gioco disse lord alvin un gioco chiamato camicia di forza l'ho inventato io sai perché il dottor baylor diceva avanti alvin vieni a prenderti la pillola come un bravo ragazzo e io ogni giorno dovevo camminare in quel corridoio lungo e puzzolente sollevò due dita due volte al giorno ma sono un bravo falegname fece una pausa sbattendo lentamente le palpebre come se stesse tentando di rimettere in fila i suoi pensieri costruivo cucce per cani non normali cucce per cani costruivo dimore e castelli per cani ho costruito una replica della torre di londra per gesù e dove tagliavano le teste alle streghe l'angolo del suo occhio sinistro iniziò a tremare restò in silenzio e fissò il vuoto mentre il giovane faceva i ritocchi finali al teschio di cerone che copriva il volto di josh quando ebbe finito il neandertal gli liberò la testa lord alvin terminò la sua uva e si leccò le dita nel gioco della camicia di forza disse mentre si leccava le dita ti portano all'ingresso del negozio la signora e la bambina restano qua ora tu hai una scelta cosa vuoi che sia liberato le braccia o le gambe qual è il punto di questa merda lord alvin agitò un dito a monitore braccia o gambe josh ho bisogno di avere le gambe libere ragionò josh ma poi posso sempre saltellare o zoppicare devo avere le braccia libere le mie gambe era impossibile decidere senza sapere che cosa sarebbe accaduto esitò tentando di pensare con chiarezza percepì che suon lo stava osservando la guardò ma lei scosse la testa perché non poteva offrire aiuto le mie gambe disse josh alla fine bene non ha fatto male vero si sentirono di nuovo risatine e fruscie tra il pubblico ok ti portano all'ingresso e ti liberano le gambe poi hai cinque minuti per attraversare il negozio e tornare qua sollevò la manica destra della sua vestaglia viola sul braccio aveva sei orologi da polso vedi posso tenere il tempo preciso al secondo cinque minuti da quando dico via e neanche un secondo in più josh josh fece un sospiro di sollievo grazie a dio aveva scelto di avere le gambe libere fu in grado di vedere se stesso strisciare e saltellare attraverso il km art in questa ridicola farsa oh sì continuò lord alvin i miei sudditi faranno del loro meglio per ucciderti tra l'ingresso del negozio e questo punto sorrise con allegria useranno coltelli martelli asce tutto tranne armi da fuoco vedi quelle non sarebbero eque ora non essere troppo preoccupato tu puoi usare le stesse cose se le trovi e se riesci a metterci sopra le mani o puoi usare qualsiasi altra cosa per proteggerti ma non troverai armi da fuoco là fuori nemmeno un fucile ad aria compressa non è un gioco divertente josh sentì in bocca il sapore della segatura aveva paura di chiederlo ma doveva farlo e se non riesco a tornare entro cinque minuti il nano saltellò su e giù nel carrello e gli puntò contro il bastone da rabdomante come fosse lo scettro di un giullare morte 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 gridò grazie folletto disse lord alvin josh hai visto i miei manichini vero non sono belli e anche così realistici vuoi vedere come li creiamo lanciò uno sguardo a qualcuno alle spalle di josh e annui immediatamente si udì un rugito gutturale che salì di tono fino a diventare un lamento acuto josh sentì odore di benzina aveva già riconosciuto il suono e gli si contrassero le viscere si guardò oltre la spalla e vide il neandertal con in mano una motosega accesa che era macchiata e incrostata di sangue secco se non batti l'orologio amico josh disse lord alvin chinandosi in avanti la signora e la bambina si aggiungeranno alla mia collezione di manichini le loro teste intendo sollevò un dito e la motosega sferragliò fino a fermarsi cadranno le teste folletto saltellava e ghignava cadranno le teste naturalmente aggiunse il folle nella vestaglia viola se loro ti uccideranno là fuori la cosa non avrà molta importanza dico bene dovremo trovare un corpo grosso da abbinare con la tua testa no allora siamo pronti pronti urlò folletta pronti disse il bruto con la barba nera pronti urlarono gli altri danzando e saltando pronti lord alvin si sporse e prese a folletto il bastone dell'abdomante lo lanciò per terra a poco meno di un metro di distanza supera quella linea amico josh e conoscerai meraviglie ci ucciderà comunque considerò josh ma non aveva scelta il suo sguardo incrociò quello di suon lei lo guardava calma e risoluta e tentò di inviargli il pensiero credo in te lui strinse i denti proteggi la bambina sì ho fatto un lavoro dannatamente buono vero l'uomo con la barba nera e un altro dei folli sollevarono josh in piedi spaccali sussurrò liona con il dolore alla testa che quasi la ciecava a metà trasportato e a metà trascinato josh fu portato fuori dal reparto animali domestici attraverso quello dei casalinghi degli articoli sportivi e poi lungo la corsia centrale fino alla fila di registratori di cassa all'ingresso c'era un terzo uomo in attesa armato con un fucile a canna doppia e con un anello di chiavi che gli pendeva dalla cintura josh fu gettato a terra e il fiato uscì sibilando tra i suoi denti gambe senti dire all'uomo con la barba e quello con le chiavi si abbassò per aprire i lucchetti josh si accorse di un ruggito costante e guardò le vetrate stava cadendo una pioggia torrenziale e una parte entrava dai vetri rotti non c'era traccia del cavallo e josh sperò che avesse trovato un posto asciutto in cui morire dio ci aiuti tutti penso anche se non aveva visto nessun altro dei maniaci quando l'avevano portato all'ingresso sapeva che erano là fuori nascosti in attesa preparandosi per l'inizio del gioco proteggi la bambina la voce rauca uscita dalla gola di popo era vivida nella sua mente proteggi la bambina doveva superare quella linea in meno di cinque minuti indipendentemente da qualsiasi cosa quelle merde pazze gli avrebbero lanciato contro avrebbe dovuto usare tutte le mosse che ricordava dei suoi giorni nel football avrebbe dovuto far tornare di nuovo giovani quelle ginocchie arrugginite oddio prego sei mai sorriso su un povero idiota mostra quei denti bianchi adesso l'ultimo lucchetto fu aperto e gli tolsero le catene dalle gambe lo tirarono in piedi con i polsi ancora ammanettati insieme la catena avvolta intorno agli avambracci e anche alle mani riusciva ad aprire e chiudere la mano sinistra ma la destra era serrata e immobile guardò verso la parte posteriore del keymart e il suo cuore fece un salto quel dannato posto sembrava lungo come dieci campi da football nel reparto animali domestici suon aveva appoggiato la testa alla spalla di liona la donna aveva il respiro irregolare e lottava per tenere gli occhi aperti suon sapeva che josh avrebbe fatto tutto quello che poteva per raggiungerli ma sapeva anche che avrebbe potuto fallire lord alvin le sorrideva estatico come il sorriso di un santo su una vetrata guardò gli orologi sul suo pulso poi puntò in avanti il megafono e gridò che il gioco della camicia di forza inizi adesso 5 minuti amico josh suon trassalì e attese per vedere cosa sarebbe accaduto grazie grazie grazie